Allora ragazzi, si va verso Napoli-Bologna dopo la partita in sospante con l'Ajax. Noi abbiamo vinto per 4-2 e siamo andati agli ottavi di Champions League, l'ottavi di finale, cosa che non mi aspettavo assolutamente quest'anno. Complimenti al Napoli, ai ragazzi, anche alla panchina e soprattutto a Spalletti, della Renzi e Giuntoli per aver... Comunque ragazzi, anche io avevo tantissimi dubbi quest'anno su Napoli, sui sostituti di Big che sono partiti, su Meret, su tutto l'Ambaradà. Invece, devo essere sincera, mi ha molto sorpreso, tantissimo mi ha sorpreso questa squadra. E anche la panchina mi ha sorpreso, perché se mi uno era a Spalletti, immaginavo che fossero forti, però soprattutto se mi uno era a Spalletti, non così. Allora ragazzi, partita complicata, partita complicata perché le squadre piccoline, Napoli ha sempre difficoltà a segnare con le squadre piccoline, che si giudono, e poi c'è la stanchezza della Champions, c'è che ci mancano, anche chissà, e Rachman. Anche chissà, si parla di un mese anche lì fuori, dicono forse riuscirà anche meno di un mese, forse due settimane, ma proprio io la vedo difficile che per due settimane recupera. Ma comunque non ho capito di preciso che cosa ha avuto, però non credo che anche chissà per due settimane ce la faccia, secondo me è un altro mese. Rachman, pure ci vuole un po' di tempo. A posto di Rachman credo che giochi One Jesus, però c'è anche Ostigard, quindi potrebbe anche giocare Ostigard, che ha dovuto ovviamente poco spazio, sia in campionato che in Champions, quindi potrebbe anche giocare Ostigard, però secondo me gioca One Jesus perché è più collaudato, poi si vuole far riposare anche One Jesus che ha giocato la Champions. One Jesus non ha fatto male con l'Ajax, sembra a me non è piaciuto tanto. I due gol presi, il rigore procurato, il gol preso, One Jesus in entrambi i casi non l'ha presa, quindi lascia che la partita per il Napoli si è messa a bene e cedere, però insomma, primo squillo senza Rachman e One Jesus. Rachman, ragazzi, ci vorrà tempo perché a novembre poi vengono i mondiali, a novembre così ne parla per i dubbi mondiali. E anche se sarebbe veramente una grande cosa recuperarlo per la Roma, ragazzi, però da quello che ho capito non si sa, secondo me con la Roma non gioca. Ragazzi, le alternative sono Dem e Don Belé, secondo me giocano Don Belé, perché Dem veramente con questa squadra è proprio un pesce fuor d'acqua. Io credo che Napoli lo venda, ma non so, se trova qualche squadra a gennaio lo dà anche a gennaio, se no a giugno, perché ragazzi è un tipo di giocatore che in questo Napoli Dem è inutile e poi secondo me Dem fa troppo il compitino, niente di più, niente di meno, quindi io credo che gioca Don Belé, se vai Don Belé e dovessi essere stanco, non avere i 90 minuti, c'è anche Dem, però anche se è una grande perdita, ragazzi, che sta facendo un inizio di stagione affatto, un inizio di stagione incredibile, quindi è una grande perdita, ragazzi, mi sembrava troppo bello per essere vero che Napoli aveva iniziato l'anno senza i fortuni, è tutto bello, diciamo, e invece anche i Seracmani. Però c'è da dire che quest'anno abbiamo, secondo me, abbiamo una panchina molto più ampia e anche molto più forte. L'anno scorso secondo me avevamo una panchina più debole, secondo me avevamo anche una panchina un po' più, oltre più debole, più corta. Quest'anno sembrerebbe che la panchina, oltre ad essere più lunga, è anche più forte, vedremo. Perché vedremo, soprattutto con l'assenza di Racmani e di Anghissa, se i sostituti saranno degni, che sia Don Belé, Juan Jesus e Ostigard. Mi ero dimenticata di salutare, chi ha indovinato nei miei pronostici nella scheda community, i risultati esatti, della scusa settimana di partita della Serie A, e della Champions non ha indovinato nessuno. Invece della Serie A, Cremonese-Napoli, 1-4 per il Napoli, Mattia-Giuventino, c'è un amico mio bravissimo per aver indovinato il risultato, esatto. Monza-Spezia, 2-0 per il Monza, Atalanta 2-0, c'è un amico mio bravissimo, e Gerardo, che ha indovinato Sassuolo-Inter, 2-1 per l'Inter in casa del Sassuolo, bravo amico mio. Quindi, come promesso, chi indovina il risultato esatto delle partite, nella mia scheda community di sondaggi, come finiranno le partite, lo saluto e ci sono i miei prossimi video, mi ero dimenticata. E quindi, poi, metterò anche i sondaggi di questo weekend, calcistico, metterò i risultati, indovinate i risultati esatti delle partite, chi indovinerà lo saluto e ci sono i miei prossimi video. Ovviamente, anche Napoli-Bologna, se Napoli dovesse vincere, non pareggiare, ovviamente a perdere. Scrivetemi sotto nei commenti quale pegno devo pagare, e lo farò, farò il video pegno con quello che voi volete, ovviamente sempre nei limiti. Detto questo, ripeto, partita ostica, perché Arnautovic è molto forte l'attaccante del Bologna. Mi piaceva anche, quando giocava, non mi ricordo dove, mi piaceva. Però è in dubbio, quello che ho capito, è in dubbio perché ha un problema, la schiena, non ho capito, quindi non si sa se gioca. Sarebbe meglio, no? Però vabbè, mai dovessi giocare. Quindi, di Bologna ostica, ragazzi, perché dopo che si è andato Mialovic, non è che il problema era Mialovic, l'allenatore. Però, ragazzi, con quel Bologna, secondo me, gli altri anni era un po' piuttosto. Però, ragazzi, sono su partite ostiche, Napoli c'è la stanchezza della Champions, di Bologna è riposato, e soprattutto in Napoli queste squadre piccoline le soffre. Quindi è un tranello, è un tranello. Poi, fortunatamente, questa settimana prossima non c'è la Champions, quindi si riposa un po' il Napoli. E però c'è il grande big match room a Napoli, senza anche i Seracamani, loro non hanno di bala. C'è una grande perdita, però anche noi. Speriamo bene, ragazzi, forza Napoli sempre, forza Spalletti, e speriamo che Osimene è tornato. E io farei sempre giocare attualmente la Spadura e Simeone, secondo i tempi Osimene, perché se la deve sudare la maglia, ragazzi, perché Simeone e la Spadura hanno meritato di giocare ampiamente, titolare, perché se l'hanno sudata. E speriamo lo Bologna, Zilischi, Mario Lui, Olivera, un grande sostituto di Mario Lui. Forza su Di Lorenzo, per me solo Zanoli, forse è l'unica picca che non abbiamo, oltre a Zanoli, qualche sostituto per Di Lorenzo. Ma per Mario Lui, per Morifera, che è forte, mi piaceva i tempi di Cavale con l'Uruguay. Speriamo bene e forziamo sempre.